Il sindaco si prospetta una scessione nel PD secondo lei? Io penso che il PD ha vissuto, è prima del PD, il centrosinistra ha vissuto in tante occasioni, momenti anche difficili. Sta a noi, sta a tutti noi lavorare perché le differenze possano poi alla fine trovare sempre una sintesi nel confronto democratico. Il tempo della sinistra che perdeva costole da tutte le parti penso che sia alle nostre spalle, soprattutto dobbiamo dimostrare agli italiani che davvero la sinistra è cambiata, c'è una nuova sinistra dove le correnti o i protagonisti non mettono davanti a tutto la loro bandiera o i loro interessi ma mettono davanti a tutto l'Italia. E se mettiamo davanti a tutto l'Italia quello che conta è avere un partito unito e non scissioni.